La gestione dell'emergenza rientra da sempre tra le funzioni principali del Dipartimento della Protezione Civile. È infatti compito del Dipartimento stesso coordinare gli interventi e le misure necessarie a fronteggiare calamità naturali o eventi che per intensità ed estensione devono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari. Solo una mobilitazione tempestiva integrata e coordinata di tutte le risorse nazionali può infatti assicurare la tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente. Fondamentale è anche l'attività di informazione svolta dagli enti e dalle associazioni locali. In precedenza ci siamo occupati della gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Invece per quanto riguarda quelle chimiche e batteriologiche? Il volontariato è sempre lo stesso quindi come abbiamo già detto più volte si mette a disposizione delle istituzioni. Per quanto riguarda soprattutto il batteriologico un'esercitazione importante che abbiamo fatto sempre con la prefettura è l'avvelenamento cioè proprio una parte di attacco all'acquedotto dove vieno gettati volutamente dei pesticidi. In questo caso dalle prime persone che si sentono male perché prima è difficile saperlo, si appura quello che è l'importanza dell'acquedotto e si corre soprattutto anche qui attraverso i media ma soprattutto casa per casa ad avvisare quelle utenze che partono da quell'acquedotto di non bere l'acqua perché altrimenti porta in pratica delle malattie e si sta male. Il nostro compito è sempre quello. Esempio, i vigili del fuoco sono in numero adeguato, perlomeno insufficiente quello che sia ma qualora succede qualcosa di importante utilizzano il volontariato preparato. Anche in questo caso naturalmente bisogna essere preparati e formati, sapere fin dove può arrivare il volontariato e questo naturalmente lo prevede il piano di emergenza del comune che tutti potete andare a consultare e vedere quali sono in modo particolare caso per caso i comportamenti dei cittadini. Assessore, nello specifico quali possono essere gli scenari? Uno scenario possibile ad esempio potrebbe essere che le aziende del territorio potrebbero avere un piccolo sversamento, un piccolo incendio, si potrebbe creare un rischio che ovviamente è potenziale e che comunque va valutato e va tenuto sotto controllo e per questo che il piano sia quello della profettura, della provincia di Pesurbino che quello di Fano tengono in considerazione anche questo rischio e nell'eventualità noi siamo pronti in ogni caso, in ogni momento attraverso anche il volontariato di protezione civile ad intervenire per informare la popolazione, per bloccare il traffico, per dare un'adeguata informazione appunto a tutti quei cittadini che potrebbero essere colpiti. Questo è un tipo di rischio ovviamente possibile, è remoto ma possibile per questo anche che insieme alla polizia, alle forze dell'ordine in generale avevamo anche pianificato la possibilità di fare una simulazione di questo evento. Poi quest'anno è stato dal punto di vista della protezione civile un anno molto intenso con alluvioni, piccoli terremoti eccetera quindi abbiamo posticipato questa situazione però ecco è già in agenda la possibilità di fare ad esempio su questi rischi, ad esempio l'incendio di una cisterna che viaggi in autostrada, un altro esempio, la possibilità anche di fare delle simulazioni per appunto informare la popolazione, per essere pronti noi ad intervenire prontamente, soprattutto informare la popolazione dei rischi che si possono correre e dei comportamenti da tenere. Questo diciamo è quanto avevamo in mente, quello è già in agenda e lo faremo sicuramente alla ripresa autunnale.